Donald e Melania positivi al Covid, in isolamento alla Casa Bianca Donald Trump e la First Lady Melania risultano positivi al coronavirus. Lo twitta lo stesso Trump, la First Lady e Dio siamo risultati positivi al Covid-19, iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione, insieme ce la faremo, in un breve comunicato, il medico personale del presidente USA, Sean Conley, ha confermato la positività della coppia presidenziale, il presidente e la First Lady stanno entrambi bene al momento e intendono rimanere a casa all'interno della Casa Bianca durante la loro convalescenza. State tranquilli che il presidente continuerà a portare avanti i suoi doveri senza alcuna interruzione mentre si riprenderà, e io continuerò ad aggiornarvi su tutti gli sviluppi, ha concluso Conley. Per il momento il presidente USA ha disdetto il tour elettorale in Florida, previsto per le prossime ore, stravolgendo l'agenda e rischiando di complicare gli ultimi. Scampoli di campagna elettorale ha ormai soltanto 32 giorni al voto. La First Lady a sua volta ha twittato, come troppi americani hanno fatto quest'anno, anch'io e il presidente degli Stati Uniti siamo in quarantena a casa dopo essere risultati positivi al test sul Covid-19. Ci sentiamo bene e io ho posticipato tutti gli impegni previsti, fate in modo di stare al sicuro e ne usciremo insieme. La coppia presidenziale si era ritirata in quarantena alcune ore fa, dopo che HopX, una delle più strette consigliere del presidente, è risultata positiva. Secondo indiscrezioni, la Casa Bianca era a conoscenza della positività di Hex già da 24 ore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.